Buona domenica a quanti seguono anche oggi il nostro spazio con l'informazione che comincia parlando dell'iniziativa lanciata in settimana dalla SLC-CGL, l'SLC è il comparto del sindacato dei lavoratori delle comunicazioni che ha avviato un'iniziativa di sensibilizzazione e di informazione dell'opinione pubblica circa le difficoltà che vivono i dipendenti dei piccoli call center, dei call center di piccole e medie dimensioni, sono 15 mila gli operatori in Calabria, circa 15 mila, 10 mila di essi lavorano nelle grandi aziende e contrattualmente sono tutelati e abbastanza rassicurati, per gli altri 5 mila invece le condizioni sono estremamente difficili sia per quanto riguarda la retribuzione che per quanto riguarda la situazione previdenziale e più in generale per le condizioni comprese anche quelle di sicurezza e per questo che sul sito dell'SLC-CGL c'è un'apposita sezione con la quale si possono effettuare denunce. Esposti sono stati presentati all'Ufficio Territoriale del Lavoro ed anche alla Guardia di Finanza e dai Carabinieri e il sindacato chiede aiuto anche ai mezzi di informazione. Retribuzioni incerte o irregolari, pagamenti con rimborsi per spese e trasferte, scarse tutele e la condizione dei circa 5 mila giovani calabresi che lavorano nei call center di medie o piccole dimensioni che la CGL denuncia e dalla quale intende mettere riparo con una campagna difesa della legalità e per il rispetto del contratto e della normativa che coinvolgerà anche i social che è stata presentata a Catanzaro. Nei call center calabresi due lavoratori su tre sono tutelati e sono quelli che operano nelle grandi aziende, ma c'è chi soffre. Sono oltre 200, fa presente il sindacato, le piccole aziende le cui sedi a volte si trovano in piccoli magazzini o nei sottoscala e che obbligano i dipendenti a percepire 2 o 3 euro all'ora a fronte dei 6,58 euro come da contratto nazionale, spesso senza versamento di contributi. Sul sito della SLC CGL, il comparto dei lavoratori delle comunicazioni, è già attiva una sezione che consente di effettuare denunce e già sono stati presentati esposti alla direzione territoriale del lavoro, ai carabinieri e dalla guardia di finanza. Ma il segretario generale della SLC Daniele Carchidi chiede aiuto anche ai mezzi di informazione. Abbiamo rilevato circa 240 attività di call center in Calabria e il 90% di questi non rispetto al contratto collettivo nazionale, il che significa che non pagano legittimamente le ore lavorate dai lavoratori e soprattutto non rispettano né diritti né per quanto riguarda i fini previdenziali e i contributi. Oggi abbiamo fatto un ragionamento di suddivisione tra tutto il nostro gruppo dirigente, abbiamo 20 ragazzi che vivono e lavorano in alcuni call center strutturati e che quindi sono rappresentanti sindacali nelle loro aziende, avranno il compito a partire da oggi di andare a cercare di portare diritti e salario all'interno anche di chi sta peggio di loro facendo lo stesso lavoro ma lavorando in aziende con imprese minore. Ovviamente noi l'appello che facciamo sia alla stampa, ai media e di aiutarci a sostenerci in questo percorso perché è da due o tre mesi che proviamo a fare delle denunce forti su questo pezzo ma c'è un po' di silenzio dal punto di vista istituzionale anche delle forze dell'ordine. Noi vorremmo richiamare anche all'attenzione questa cosa perché ci sono delle situazioni drammatiche. Alcuni lavoratori dovrebbero precipire 6,50 euro così come prevede il contratto ma ne prendono 2-3 euro all'ora. Questo è quasi da parlare del caporalato all'interno del settore dei call center in Calabria e su questo ci deve dare una mano sia i media per richiamare all'attenzione le istituzioni ma anche le grandi committenti che danno lavoro a queste aziende. Quindi l'auspicio e l'aiuto è che cerchiamo di lanciare questa campagna di legalità ma soprattutto una campagna di dignità per dare la possibilità a questi lavoratori di avere maggiori diritti e soprattutto un salario dignitoso. Abbiamo scoperto in alcuni casi addirittura alcuni lavoratori che vengono pagati con rimborsi spese o trasferte mai fatte e rimborsi mai fatte. È solo una modalità per eludere il fisco, una modalità per eludere l'Inps e quindi non versare i contributi su quel pezzo. Quindi anche da quel punto di vista abbiamo bisogno che le forze dell'ordine diano una mano a riportare legalità e trasparenza in questo settore. La sempre più frequente assegnazione di appalti col massimo ribasso fa presente la CGL complica ulteriormente le cose in un settore in cui il lavoro incide per l'80% sui costi complessivi e ad essere penalizzati sono inevitabilmente i lavoratori. Per il sindacato quella appena avviata è una battaglia di civiltà per il rispetto dei diritti e della legalità. Queste aziende in genere pagano sotto quello che è il costo del lavoro, quindi sotto quello che è il costo del contratto e soprattutto utilizzano dei modi molto fantasiosi per fornire le retribuzioni. Prima parlavamo appunto di rimborsi spese, trasferte che sarebbe praticamente l'usione della contribuzione, quindi ho messo contribuzione nei confronti dei lavoratori. Noi stiamo cercando di scovare tutte queste aziende sia perché in Calabria non ci possiamo accontentare del lavorare a qualunque costo, ma dobbiamo cercare di mantenere una dignità del lavoro prima che una dignità del reddito e soprattutto queste aziende poi si fanno dumping tra di loro e come ben sappiamo al massimo ribasso non c'è mai fine. Quindi non è cambiato nulla in questa stagione ma veramente auspichiamo che cambi qualcosa nel 2018. In ogni guerra per sconfiggere il nemico bisogna conoscerlo, per battere il cancro conoscerne i numeri è estremamente importante, è stato ribadito la presentazione del report sui numeri del cancro in Calabria ma in ogni regione è stata fatta la stessa cosa e questo report è realizzato grazie al contributo dell'Associazione Italiana dei Medici Oncologi e dell'AIRTUM che è l'associazione dei registri tumori. In Calabria non siamo ancora all'anno zero ma non siamo ancora neanche all'optimum per quanto riguarda i registri tumori, la provincia di Vivo Valencia per esempio ancora è in forte ritardo ma comunque piano piano si stanno raggiungendo i livelli normali, accettabili, abituali. Per quanto riguarda i dati più in generale diciamo che non c'è nulla di nuovo rispetto all'anno prima, in Calabria ci si ammala di meno rispetto ad altre regioni italiane, questo è certamente un dato positivo, quello negativo è invece che per la prevenzione pur se si riesce a fare già tanto rispetto a solo a pochi anni fa ancora siamo indietro rispetto ad altre regioni e ripeto anche a livello terapico conoscere i numeri a partire dall'incidenza di alcune tipologie di tumori è estremamente importante per migliorare gli interventi, l'assistenza e per la prevenzione. Per combattere il cancro è indispensabile conoscerne i numeri ed i numeri dicono sostanzialmente che in Calabria ci si ammala di meno che nel resto del paese ma si fa anche meno prevenzione. Sono questi i dati salienti per quanto riguarda la nostra regione del volume sui numeri del cancro in Italia, illustrati presso l'azienda ospedaliera ed universitaria Mater Domini di Catanzaro. Volume che è una sorta di istantanea sulla casistica dei tumori scattata ogni anno dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica e dall'Associazione Italiana Registri Tumori. Nel 2017 in Calabria sono stati registrati 10.450 nuovi casi di tumore, 5.650 fra gli uomini e 4.800 fra le donne che sono pari a 30 nuovi casi diagnosticati ogni giorno. Circa i tumori più frequenti non ci sono differenze rispetto alle altre regioni. Sono quelli del colon retto 1.600 casi, del seno 1.300, del polmone 1.100, alla prostata un migliaio ed allo stomaco 350. Anche i calabresi hanno ormai compreso quanto uno stile di vita sano, dalla dieta corretta all'attività fisica costante, allontani il rischio di ammalarsi. Ma quello su cui ancora sono carenti è l'aderenza alle misure di prevenzione. Il 46% è sedentario, il 34% è in sovrappeso e l'11,2% è obeso, percentuali superiori rispetto alla media nazionale e che inducono a pensare che i consigli dei medici non sempre siano scrupolosamente seguiti. Come pure sugli esami di screening. Solo il 34,6% delle donne ha effettuato la mammografia, il 31% ha eseguito il PAP test ed appena il 24% dei cittadini si è sottoposto al test per la ricerca del sangue occulto nelle feci per individuare in fase precoce il cancro del colon corretto. Ecco dunque in che direzione si deve agire perché l'incidenza dei casi diminuisca in maniera significativa. In Calabria tutto sommato vi è una incidenza dei tumori leggermente inferiore alla media nazionale, però vi è una bassa adesione ai programmi di screening e questo va migliorato perché vuol dire poter migliorare la diagnosi precoce, poter ridurre l'incidenza dei tumori e arrivare ad avere meno tumori anche in Calabria. Il cancro è un nemico sempre meglio affrontabile e sempre più battibile. Si può vivere molto più a lungo anche dopo una diagnosi non immediata e le armi a nostra disposizione sono sempre più efficaci. Per affinarle ulteriormente i registri tumori sono uno strumento fondamentale come sottolinea il vicepresidente nazionale dell'Associazione dei Registri, Sante Minerva. In Calabria i registri tumori sono presenti in tutte le province calabresi, manca solamente la registrazione e l'accreditamento del registro tumori di Vivo Valencia, mentre gli altri registri seppur con anni diversi hanno tutti avuto l'accreditamento. Quindi l'Airtum è la società scientifica nazionale che si occupa di formare gli operatori del registro tumori per avere dei dati uniformi su tutto il territorio. In Italia sono presenti 51 registri tumori accreditati che coprono quindi quasi il 70% della popolazione. Questa sempre maggiore estensione accanto alla qualità del dato rappresenta sicuramente uno strumento indispensabile per la programmazione sanitaria e per le scelte anche terapeutiche. Quali dati da un registro tumori? Dai dati di incidenza, di sopravvivenza e di prevalenza. Incidenza vuol dire quanti casi ci sono nuovi all'anno. Prevalenza vuol dire quanti casi di soggetti anche guariti ci sono. Sopravvivenza vuol dire, quindi è sicuramente un indicatore di miglioramento della prognosi e della diagnosi più tempestiva e delle migliori terapie e quindi ormai in Italia il 60% della popolazione che è colpita da tumore sopravvive a 5 anni. Quindi questo vuol dire che grazie ai dati si possono fare dei progressi anche in campo terapeutico. E' una delle più importanti strutture museali al sud, è una delle più importanti in Italia per la verità, il Museo Storico Militare di Catanzaro ricco di cimeli prestigiosi ed è francamente visitarlo è un viaggio nella memoria ma ha anche un forte impatto emotivo e parlo per esperienza personale. Bene, per la gestione del Musmi, per molte delle iniziative anche di tipo culturale che si svolgeranno presso il Musmi, è stato siglato alla provincia di Catanzaro un protocollo d'intesa che coinvolge proprio l'amministrazione provinciale e poi l'associazione Calabria in armi che è formata, vi aderiscono insomma sia ex combattenti, militari in servizio ed in congedo e quindi si tratta di un contributo estremamente importante perché arriva da competenze che sono immancabili per la crescita di questa struttura. L'amministrazione provinciale di Catanzaro e l'associazione Calabria in armi hanno siglato a Palazzo di Vetro un protocollo per la gestione tecnica e culturale del Museo Storico Militare. L'intesa permetterà di sviluppare una sinergia mirata alla programmazione di attività ed iniziative volte ad esaltare il patrimonio della struttura museale. La collaborazione tra Musmi ed associazione Calabria in armi e nelle cose. Entrambi promuovono ed organizzano iniziative di studio che hanno per oggetto temi di carattere storico e militare e puntano alla valorizzazione di reperti e cimeri. L'elenco delle cose da fare è essenziale ma estremamente preciso. Dalla pura e semplice organizzazione del Museo, di iniziative culturali adesso collegate e di giornate di ricerca e di studio all'aggiornamento della catalogazione dei pezzi e dalla loro più adeguata collocazione alla collaborazione con gli istituti scolastici per la conduzione di progetti di alternanza scuola-lavoro, 12 quelli già attivi. Il presidente dell'amministrazione provinciale, Enzo Bruno, sottolinea come il Museo Militare sia ormai parte integrante del sistema museale della provincia di Catanzaro. Questa è un'iniziativa che ci consente di implementare l'attività al parco della biodiversità e in particolare delle strutture che ci sono dentro, tra cui il MUSMI, che è il Museo Storico Militare di Catanzaro, che come voi sapete è una delle strutture museali più importanti d'Italia, una delle pochissime del genere ed è ricchissima di cimeli e reperti che ci invidiano tutti. Quindi oggi abbiamo voluto instaurare un rapporto più stretto con Calabria in armi guidata dal generale Martinello o dal generale Moschella che ci consente di avere un meccanismo più di continuità per attivare percorsi culturali e soprattutto arricchire sempre di più di cimeli più importanti il Museo Storico Militare. Con Calabria in armi c'è anche un impegno affinché il Museo possa accogliere altri cimeli che si riferiscono appunto a tutta la storia militare del Paese. La collaborazione con Calabria in armi, a cui aderiscono militari in servizio o in congedo, ha permesso di potenziare l'offerta del MUSMI e di farne uno dei più importanti musei storici militari italiani. La collaborazione che è stata avviata ha il grande obiettivo di fare memoria delle guerre e delle loro drammatiche conseguenze per riuscire a trasmettere e diffondere la cultura della pace, della convivenza civile, della solidarietà e dell'accoglienza. Già partito il lavoro per realizzare una biblioteca, ma il presidente dell'Associazione Pasquale Martinello preannuncia anche la costituzione di un centro studi che canalizzi in maniera scientifica le occasioni di approfondimento dei ricercatori. Qualsiasi contenuto va arricchito sempre di più perché il tempo passa, perché le cose si vengono a conoscere sempre un po' di più e quindi arricchire il museo di altre esperienze, di altri contenuti con delle persone che hanno la passione della storia e quindi la passione per queste argomentazioni diventa veramente una sinergia alla quale non si può prescindere. La cosa più grossa a cui pensiamo è un centro studi all'interno del museo per dare la possibilità a chi ha la volontà, la passione, il desiderio, mettiamolo come lo vogliamo, passare da questo centro studi e trovare delle persone competenti ma anche dei supporti informatici, multimediali che lo aiutano in questa sua ricerca. Il generale Martinello che avete visto parlare appena poco fa nel servizio, a seconda e ultima intervista che abbiamo sentito, era fra l'altro il comandante dell'esercito in Calabria, del comando militare esercito Calabria fino a pochi anni fa. Bene, è tutto per questa edizione. Io vi ringrazio per averci seguito. Vi auguro buona domenica, vi ricordo che il telegiornale torna domani alle 13.50.